Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli, Claudio Traine ed Emanuela Loi è la memoria che mantiene in vita il loro messaggio, oggi come in tutti gli altri giorni dell'anno. Per questo, 26 anni dopo, è ancora tempo di cortei e ricordi, di manifestazioni, concerti e cerimonie religiose. Alle 17.30, alla presenza del capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, la cerimonia di ricordo delle vittime, con deposizione di corone di alloro sulla lapide commemorativa presso il reparto scorte della Questura. Alle 18, sulla piazza d'armi della caserma Pietro Lungaro, una santa messa in ricordo dei caduti in Via D'Amelio, ufficiata dall'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, e dal cappellano della polizia di Stato, Don Massimiliano Purpura. A seguire un momento di ricordo, dedicato all'agente Emanuela Loi, con la proiezione di un filmato e le testimonianze di alcuni colleghi, che condivisero momenti di vita e di lavoro con la poliziotta. «Onorare la memoria del giudice Borsellino e delle persone che lo scortavano significa anche non smettere di cercare la verità su quella strage», ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel comunicato pubblicato sul sito del Quirinale, riconoscendo che sulla strage di Via D'Amelio non esiste ancora una verità giudiziaria. «A 26 anni di distanza», continua la dichiarazione del Capo dello Stato, «sono vivi il ricordo e la commozione per il vile attentato di Via D'Amelio». Borsellino era un giudice esemplare, probo, riservato, coraggioso e determinato. Le sue inchieste hanno costituito delle pietre miliari nella lotta contro la mafia in Sicilia. Insieme al collega amico Giovanni Falcone, Borsellino è diventato a pieno titolo il simbolo dell'Italia che combatte e non si arrende di fronte alla criminalità organizzata. Oltre che nell'anniversario della strage, le parole di Mattarella arrivano anche poche settimane dopo il deposito delle motivazioni della sentenza emessa dai giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta sull'ultimo procedimento legato alla strage di Via D'Amelio. I giudici hanno confermato che le indagini sull'omicidio di Borsellino rappresentano uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Ieri invece Fiammetta, figlia del magistrato ucciso da Cosa Nostra, il 19 luglio del 92, ha posto 13 domande allo Stato sui punti rimasti oscuri sulla strage. Sono passati 26 anni dalla morte di mio padre e ancora aspettiamo delle risposte da uomini, delle istituzioni e non solo. Ci sono domande, le domande che io e i miei fratelli Manfredi e Lucia non smetteremo di ripetere, che non possono essere rimosse dall'indifferenza o da colpevoli disattenzioni. Se lo Stato vuole, come dovrebbe, recuperare la credibilità perduta con uno dei più scandalosi episodi di denegata giustizia della storia repubblicana, è ora di farlo, ha aggiunto il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. È ora di rendere giustizia non solo alle vittime e alle loro famiglie, ma a tutto il Paese, perché quei fatti, certamente, cambiarono la storia dell'Italia. Le tante manifestazioni organizzate dalla società civile in questi giorni dimostrano che certamente i cittadini non hanno smesso di battersi per la verità, ne hanno smesso di sperare che sia possibile raggiungerla.